www.feyyaz.com Non ho cominciato io questa guerra. Vi ho offerto la pace. Sono stato indulgente. Ma ora siete qui... ...per sterminarci tutti. Tutta la storia dell'umanità... ...ci ha condotto qui. Ironicamente noi vi abbiamo creato. La natura ci punisce da allora. È la nostra ultima resistenza. Se perderemo... ...sarà... ...un pianeta di scimmie. ... ... ...